Benissimo, allora siamo pronti per presentare un altro ospite, vedo anche un altro ospite ancora nel monitor, ma salutiamo l'onorevole Marcello Gemmato, grazie per essere ritornato da noi onorevole, anche perché la sua competenza onorevole non riguarda solamente la politica perché lei riveste un ruolo anche in un ambito più comune ed essenziale che è quello della sanità perché è anche farmacista e in questo momento io penso che lei si senta combattuto dall'essere politico e poi dalla rabbia che oltre a quella politica in questo momento è quella della salute, mi sembra che da dopo romani vi hanno dato un compito come farmacisti che è quello di prenotare i vaccini per gli over 80, ma mi diceva Paolo e mi dicevano altri suoi colleghi che ancora c'è molta confusione perché non si sa ancora con quale programma si dovranno appunto prenotare, non so se lei potrà dirci, ora mi rivolgo al farmacista Marcello Gemmato, sapete qualcosa in più di come verranno queste prenotazioni? Allora sì, buonasera a tutti innanzitutto, buonasera e grazie per l'ospitalità, sì diceva bene, diciamo come dire il tratto comune dell'azione politica di Lopalco Emiliano molte volte, molto spesso soprattutto in tema di sanità e la fumosità e mi permetto di dire anche l'annuncite, cioè si annunciano eventi, episodi, grandi operazioni che poi chiaramente non sono purtroppo corroborate da azioni concrete a supporto. Nella fattispecie si è annunciato che da dopo domani è possibile in farmacia prenotare i vaccini per gli ultraottantenni, per esperire a quello che è una fase essenziale sanitaria, ovvero la vaccinazione di quella fascia di età che per statistica è quella purtroppo che miete il numero maggiore di vittime. Questo io lo voglio ricordare, ci sono dei dati ben chiari, gli under 50 hanno un tasso di mortalità pari all'1%, questa percentuale va via via crescendo e ha appunto un picco negli ultraottantenni, quindi non sfuggirà ai più l'importanza della vaccinazione in questa fascia di età. Ora, Lopalco ha emesso, ha diramato un comunicato stampa nel quale lui sostanzialmente afferma chi vi sarà la possibilità da dopo domani nelle farmacie di poter prenotare. Nello stesso comunicato c'è uno strafalcione chiaro che è quello di dire che anche nei CUP si potranno prenotare le vaccinazioni, ora è chiaro e purtroppo noto a tutti che i CUP sono i smart working e quindi non si può fisicamente sfruttare come scritto nel comunicato di Lopalco, la rete dei CUP presenti sul territorio, si potrà invece sfruttare la rete delle farmacie private e convenzionate, categoria alla quale mi onoro di appartenere e lo diceva bene, questo lo diceva mio padre, buonanima che non c'è più, lui diceva ricordati, la laurea te la sei conquistata tu ed è tua, tutto il resto è ciò che ti viene dato, te lo danno altri e non è merito tuo. Siccome sono di famiglia anche mio padre e mia madre erano farmacisti, diciamo ci tengo a questa. Non sentiamo, non abbiamo più l'audio onorevole, all'improvviso è mancato l'audio, ora sì, ora la sento, io nel frattempo vedo e saluto nel monitor, tra poco avremo il dottor Donato Monopoli che è segretario regionale della federazione medici di famiglia, con lui completeremo anche questo discorso, quindi volevo sapere in pratica, perché qualcuno sta scrivere. Sì, in realtà c'è stato questo annuncio, però poi l'accordo con la Federfarma non è stato diciamo declinato fino in fondo, ora proprio prima di parlare con voi ho chiamato un alto esponente pugliese della Federfarma, che è il sindacato titolare di farmacia e mi dicevano che in ultimo incontro piattaforma, avuto qualche minuto ora fa, si prevedeva che le prenotazioni avvenissero tramite il portale CUP, quel portale che noi utilizziamo per le prenotazioni specialistiche in farmacia, quindi dovrebbe essere implementato il servizio CUP della farmacia e dovrebbe essere innestato proprio lì la possibilità di poter prenotare per le persone, per gli ultraottantenni che possono deambulare la vaccinazione, invece per gli ultraottantenni che non possono deambulare saranno vaccinati tramite le USCA, che ricordo a tutti essere unità speciali di continuità assistenziali che proprio in questo momento svolgono un ruolo fondamentale, aggiungo, fra mille difficoltà. Ecco, lei ha detto bene, perché anche lì ci sarebbe riaprire ora una polemica che non vogliamo fare in questo momento per il numero delle persone impiegate per questo, ora la domanda che mi faccio io da cittadino, io ne parlavo oggi, ho un suocero che domani Rocco fa 82 anni e diceva a lui devi fare la prenotazione, mi raccomando perché lui ha anche delle problematiche e quindi oltre all'anzianità ha delle problematiche che consigliano di fare immediatamente il vaccino. Ma ora mi chiedo questo, onorevole, sempre il dottor Gemmato, poi lo chiederò anche al dottor Monopoli, non pensa che in realtà c'è sempre il cosiddetto armiamoci e partite, noi presumibilmente possiamo immaginare che dopo domani davanti alle farmacie dappertutto ci sia una fila di persone che cercheranno di entrare, di entrare per prenotare, è così, nello stesso momento ci sono le persone che hanno bisogno di approvvigionarsi di medicine, di seguire le terapie, io non so come potrà essere gestita questa cosa, oltretutto ci sarà anche un altro problema che le persone che fanno la fila per, io non so quanti minuti ci vogliono per fare una prenotazione, però presumo che se io sono anziano devo entrare, devo uscire il tesserino sanitario, non so il documento, il farmacista deve mettere i dati nel computer, se ne vanno molti minuti, mentre la gente continua a stare fuori dalle farmacie, la gente non solo, gli anziani continuano a stare, perché poi avremo gli anziani in particolare, perché sono gli anziani, quella degli anziani è la categoria che meno conosce la tecnologia, quindi che pensiamo avrà più difficoltà a fare la prenotazione online, quindi non sappiamo in realtà che cosa avverrà, immaginiamo di avere tantissimi anziani dietro alla farmacia, voi per quanti dipendenti i farmacisti possono avere, avranno difficoltà sia per inserire i nomi di chi va dietro, di chi viene a prenotare, sia per le ricette di coloro che hanno bisogno del farmaco, io non riesco a immaginare un oreo. Indubbiamente ci sarà un carico di lavoro, ora le dico che la rete delle farmacie private, ora non perché appartenga a questa categoria professionale, siamo in grado di gestire le criticità, ovviamente ci saremmo aspettati e ci aspettiamo dalla parte pubblica una mano, lo diceva opportunamente, pensare che a 48 ore dall'evento, a meno di 48 ore, perché dopo domani mattina dovremmo già iniziare a prenotare, non si conoscono il perimetro, non si conoscono i dettagli di questa prenotazione, si sa che appunto avverrà probabilmente sulla piattaforma CUP, centro unico prenotazioni, però appunto non sappiamo quanto durerà, se ci saranno anche sovraccarichi sulla stessa linea, c'è tutta una zona grigia che diciamo ovviamente cadrà sulle spalle delle farmacie e soprattutto potrà andare nel documento, poi dell'altra parte, qui apriamo, ecco non voglio neanche io aprire un tema polemico, che è quello della gestione di tutte le malattie ordinarie che durante il Covid sono state abbandonate, tutta la diagnostica, io immagino per esempio il tumore alla mammella, che è un tumore, il tumore al seno per le donne, che è un tumore che ha una percentuale di successo dell'83%, cioè l'83% delle donne che purtroppo hanno questo tumore riescono invece per fortuna a vivere, a morire d'altro, ma perché? Perché si gioca tutto sulla diagnosi precoce, ora tutta la diagnosi precoce, tutta l'aderenza terapeutica, tutta la gestione delle malattie no Covid, in questo momento stanno praticamente, c'è un disastro totale e secondo me si avrà nel breve, nel medio e nel lungo periodo un prezzo che noi pagheremo in termini di vite umane, purtroppo, e anche in termini economici, perché gestire le malattie se sfuggire di mano la situazione rispetto a malattie così importanti, si avrà un buco nella sanità pazzesco, voi pensate che soltanto un giorno di ospedalizzazione costa mediamente 1.300 euro un giorno di una persona che sta in ospedale, se noi allarghiamo le ospedalizzazioni di qui a qualche anno dovute al fatto che tante patologie non sono state né curate bene né diagnosticate, peggio ancora, probabilmente ci sarà un'esplosione nella stessa pubblica sanitaria, questo è un altro tema che noi dovremmo affrontare, purtroppo, io lo dico sempre, assistiamo alla presenza di Lopalco e di Emiliano, da Barbara D'Urso, alla Sette, a Tele1, a Canale 5, dappertutto, tranne nel posto in cui dovrebbero essere. Negli assessorati, tra la gente, nelle corsie d'ospedale, per rendersi conto, cioè che diceva lei giustamente, le farmacie che andranno in tilt, poi ce la dovremo risolvere noi e come tutte le cose penso che riusciremo a farcela, ma non è normale appunto che la parte pubblica che dovrebbe essere risolutrice dei problemi invece sia parte del problema. Onorevole, noi ieri abbiamo avuto, noi abbiamo la fortuna di avere forse uno dei migliori in Italia, è un ingegnere esperto in statistiche Covid, ogni lunedì mandiamo tutti i dati, ma i dati rapportati a livello nazionale è davvero, stiamo facendo tantissime visualizzazioni anche laddove andiamo a pubblicare questi dati, che sono dati straordinari. Ieri è emerso un fatto che in Puglia in questo momento sembrerebbe, Paolo, che non abbiamo più posti ordinari in tutta la Puglia, perché parliamo del 75% di posti praticamente che sono destinati al Covid, il 75% di posti occupati significa che dovremmo averne il 25% di posti disponibili per altre patologie, quindi in pratica non ci sarebbero più posti. Emiliano dice però tra poco, ieri abbiamo avuto anche Perrini, Emiliano dice tra poco entrerà in funzione l'ospedale della Fiera del Levante, poi andiamo a vedere che Perrini stesso ci disse che quell'ospedale in realtà 15 posti e non so se o quando partirà, ma poi abbiamo un problema oggettivo che è quello del personale, io non so, possiamo mettere i posti, i letti, li possiamo mettere dappertutto, se non abbiamo preumologi, rianimatori, personale, infermieri e tutto il resto, non so di che cosa stiamo parlando. Lei ha detto benissimo, io dico effettivamente la sovraesposizione mediatica di Lopalco, dello stesso governatore, Lopalco manca solamente che vada a Grande Fratello, poi le ha fatte un po' tutte, lui ha postato, ha messo un post l'altro giorno su Twitter dicendo faccio il mestiere più bello del mondo, virologo, in realtà forse non ho ancora capito, io dico se fai quel mestiere che è più bello del mondo, perché non fai quel mestiere piuttosto che fa l'assessore alla sanità e sono contento che tu faccia, se io facessi il mestiere più bello del mondo non starei qua a fare il giornalista in questo momento, dico fai quello che sai fare, non fare l'assessore, però poi uno ci pensa, dice ma è tutta colpa di Lopalco, no perché qualcuno lo ha scelto, qualcuno lo mette, qualcuno crede in quello che sta facendo. Va bene, onorevole, è sempre un grande piacere parlare con lei perché ripeto, la vero, lei ha detto bene, io l'apprezzo molto come farmacista, come esperto perché l'ho sentita di nuovo parlare in un'altra trasmissione proprio in maniera professionale con la competenza giusta, stasera abbiamo aperto un'altra finestra che è quella, le problematiche dovute, tra poco ne parleremo anche con il dottor Monopoli, ripeto segretario regionale federazione medici di famiglia, perché sarebbe stato forse opportuno far fare ai medici di famiglia le prenotazioni, perché ogni medico di famiglia conosce i propri pazienti, anziani, avrebbe potuto lui stesso fare il vaccino o prenotare il vaccino ed era la cosa più giusta, perché probabilmente il medico di famiglia non hai nemmeno bisogno di esibirgli il tesserino sanitario perché ce l'hai dati nel suo computer dei propri pazienti, non avresti bisogno di nulla, si potrebbe fare invece in questo momento io ritengo che sia, accadrà un, mi scusi l'espressione, un casino davanti alle farmacie, perché è l'unico posto dove le persone possono andare, ripeto, i CUP, io non so ancora se i CUP, quelli normali a Martina Franca ad esempio fino a poco tempo fa erano chiusi, c'era il vigilante, davanti alla porta non stanno funzionando, io dico se sono chiusi i CUP e perché voi dovete stare, vi dovete in qualche modo premunire di non avere contatti con la gente, il personale, gli impiegati e tutto il resto e poi che fate, mandate tutti in farmacia, io sono, guardi non riesco a comprendere, ma probabilmente è la mia incapacità nel comprendere, quindi la voglio ringraziare ancora della sua partecipazione, ci permette di chiamarla quando ne abbiamo bisogno perché abbiamo sempre un termometro della situazione, ecco, un termometro umano piuttosto che tecnologico che sono quelli che magari...